buongiorno a tutti e benvenuti di nuovo su punte virga oggi inauguriamo una nuova collana nel regno di mezzo zai jong wo che si occuperà della cina ma anche in senso più ampio quindi non solo l'attuale repubblica popolare ma anche gli altri paesi che fanno parte di una stessa sinosfera che quindi condividono tutta una serie di affinità storiche e culturali filosofiche religiose politiche e questo perché è un tema estremamente attuale naturalmente poco conosciuto in italia purtroppo e che mi ha affascinato da quando ho iniziato a studiare e approfondire l'asia orientale presso il corso di scienze internazionali dell'università di torino questa collana la inauguriamo proprio con un video su hong kong perché questo mese sono 25 anni dal suo ritorno alla cina e cominciamo in realtà a snocciolare qualche dato per capire di cosa stiamo parlando perché hong kong è praticamente una città stato una superficie di 1110 chilometri quadrati che è un po meno della provincia di napoli ma la popolazione arriva a 7 milioni e mezzo di abitanti per giunta concentrati in una zona residenziale che occupa il 7 per cento del suo territorio e non a caso è stata definita la città verticale perché si è sempre espansa costruendo verso l'alto è la città al mondo con più grattacieli la popolazione è al 92 per cento composta da cinesi han e con solo un 8 per cento di stranieri però è molto variegata a parte dal punto di vista religioso dove condivivano ovviamente il buddismo taoismo cristianesimo islam ma anche dal punto di vista linguistico gli abitanti di hong kong sono madrelingua cantonesi perché è la lingua di questa regione meridionale della cina per cui sia gli autoctoni che un gran numero di immigrati provenienti dal continente parlano questa lingua mentre l'inglese lingua ufficiale e anche il mandarino promosso dall'autorità di pechino sono parlate appena la metà della popolazione e hong kong rappresenta anche un centro economico fondamentale il suo pil e a parità di potere d'acquisto di 552.160 dollari che grossomodo un po meno dell'austria un po più di israele e anche se oggi rappresenta soltanto un sessantesimo del pil cinese 30 anni fa arrivava a misurare il 27 per cento oltre un quarto dell'economia della cina continentale e quindi su queste premesse andiamo un po vedere da dove viene hong kong che cosa è successo in passato e cosa succederà in futuro hong kong è una conseguenza diretta delle guerre dell'oppio sostanzialmente l'impero cinese dinastia ting aveva assunto un ruolo dominante nei rapporti commerciali con i paesi europei perché il commercio doveva avvenire secondo le condizioni dettate dal governo imperiale attraverso alcuni porti ben precisi canton in particolare e si trattava dell'esportazione di prodotti di lusso come tè porcellane seta in cambio di argento sonante questo aveva fatto sì che per l'inizio dell'ottocento la cina avesse accumulato una parte importante dell'argento che gli europei a loro volta hanno estratto delle americhe e i britannici avevano tentato di invertire questo processo trafficando oppio nell'impero cinese proprio coltivato nelle loro colonie asiatiche in particolare in india tra l'altro con gravi conseguenze poi di squilibrio economico e sociale ma sostanzialmente quando nel 1839 le autorità di canton avevano distrutto un carico doppio il governo britannico aveva deciso di reagire con la forza in nome della libertà di commercio ma diciamo in nome del narcotraffico dovremmo dire inviando una squadra navale in realtà non particolarmente consistente ma la cui mobilità e potenza di fuoco a livello navale è stata sufficiente a spostarsi agevolmente per mare e per fiume distruggere e affondare le giunche cinesi sbarcare e occupare hong kong 20 gennaio 1841 nella baia di canton e costringere nel 1842 il governo cinese a accettare un trattato di pace il trattato di lanchino per cui quattro porti dovevano essere aperti al commercio la cina doveva risarcire la gran bretagna e cedere hong kong che sarebbe diventata quest'isoletta una colonia della corona britannica successivamente perché diciamo questo è l'evento che apre nella storia cinese il cosiddetto secolo delle umiliazioni caratterizzato dal dominio e dallo sfruttamento della cina da parte delle potenze straniere e quindi quando sempre a canton si verifica un incidente simile nel 1856 la gran bretagna appoggiata questa volta dalla francia e dagli stati uniti nonché la russia che otterrà diversi territori da parte cinese per rimanere neutrale attaccherà nuovamente i porti della cina e dopo che i cinesi rifiuteranno un trattato di Tianjin proposto nel 1858 che prevedeva l'installazione di ambasciate a pechino la libera navigazione sul fiume azzurro libero accesso di straniere alla cina gli europei proseguiranno arriveranno fino a pechino incendieranno saccheggeranno addirittura il palazzo d'estate e nel 1860 il governo imperiale costretto a firmare la convenzione di pechino che oltre a le condizioni poste precedentemente prevedeva anche libertà di religione in cina quindi libero accesso ai missionari la possibilità di esportare manodopera cinese nelle americhe come servitù a contratto e la legalizzazione dell'oppio quindi una cosa abbastanza scandalosa tant'è vero che nello stesso governo britannico dell'epoca c'era chi era contrario a questo modo da agire e la parte della penisola di Kowloon di fronte all'isola di Hong Kong sarà aggiunta a questa colonia e infine nel 1898 il primo luglio una seconda convenzione di Beijing espanderà ulteriormente questa colonia perché si erano resi di conto che c'era bisogno di un terreno più ampio e siccome ormai era in valsa la open door policy per cui sostanzialmente le potenze europee rinunciavano a spartirsi effettivamente territorialmente la Cina per condividerne essenzialmente l'accesso questi nuovi territori come venivano chiamati verranno concessi in affitto per 99 anni quindi ci saranno ovviamente la rivolta indigena sarà soppressa e così che viene a formarsi il territorio della Tua rispetto a tutte le altre concessioni coloniali strappate dalle potenze occidentali alla Cina tra l'800 e il 900 Hong Kong è sicuramente più importante non soltanto perché è la più antica dopo Macau ma anche perché ha dietro tutta la potenza dell'impero britannico quindi non solo è una base navale per la Royal Navy in parte della China Station è un entrepò commerciale fondamentale data la sua posizione nel delta del fiume delle perle di fronte a Macau Canton proiettata verso il sud est asiatico il Giappone le Filippine ma anche un centro importante per l'educazione dei giovani cinesi esempio Sun Yat-sen è padre della Repubblica di Cina studierà medicina proprio Hong Kong e diventa anche un po' un porto franco per i rivoluzionari antiimperiali e poi tutto quel periodo che nel 1911 collassa l'impero cinese e sorge un periodo molto caotico di guerre civili che si chiuderà soltanto nel 1949 con la vittoria dei comunisti e anche per questo che nel primo dopoguerra negli anni venti cominciano anche i primi scioperi dei lavoratori organizzati su vasta scala a causa dell'influenza comunista che in quel periodo era in alleanza con i nazionalisti e tuttavia ci sarà una pausa nella seconda guerra mondiale quando l'8 dicembre del 41 al giorno dopo per l'Arvur le forze giapponesi aggrediscono la città che sarà costretta ad arrendersi il 25 dicembre il natale nero di Hong Kong e rimarrà sotto occupazione giapponese fino al 30 agosto del 1945 occupazione durissima 10.000 abitanti circa verranno uccisi dalla repressione giapponese il resto farà la fame la popolazione diminuirà fortemente e si arriva sostanzialmente alla fine della guerra insieme a Macao anche qua rimarrà l'unica parte di territorio cinese ancora in mano agli europei e questo punto ha citato l'idea del governatore Yang di espandere la rappresentanza democratica e quindi fare eleggere il consiglio un terzo da cinesi un terzo da non cinesi un terzo dalle istituzioni però viene subito accantonato perché Hong Kong nel secondo dopoguerra viene subito ripopolata da un numero enorme di profughi a causa della guerra civile poi della vittoria dei comunisti si formano i due bandi politici quello pro comunista e quello pro nazionalista con i loro rispettivi sindacati e addirittura si arriveranno a scontri nel ottobre del 1956 tra cinesi filo nazionalisti e cinesi filo comunisti c'erano 59 morti rimarranno sul terreno Hong Kong in questo periodo rimane un po' una città stato sotto assedio anche se in realtà l'impero britannico ha subito riconosciuto la repubblica popolare cinese primo stato occidentale importante a farlo 6 gennaio 1950 quindi in realtà la cina aspetterà un po' fino al al 72 ricambierà il riconoscimento cioè quando sarà riconosciuta anche a livello di nazioni unite come l'unica vera cina comunque i rapporti sindo britannici rimangono abbastanza buoni e nell'interno che chiaramente Hong Kong è sovrappopolata i governatori devono avviare anche programmi di edilizia popolare iniziano anche programmi per sottrarre la terra al mare visto la mancanza di spazio il famoso caso più eclatante la città murata di caolone che era un pezzettino di terra che era una base cinese prima della guerra e dopo la guerra è rimasto un pezzettino di territorio cinese quindi non soggetto all'autorità britannica circondato ovviamente dal resto di Hong Kong quindi diventa popolatissima sostanzialmente una cumulo cumulo di case abbastanza fatiscenti dominato dalle triadi e poi gli anni 50 e 60 in particolare sono dominati dalle triadi c'è le organizzazioni mafiose di Hong Kong soltanto dagli anni 60 le cose cominceranno a cambiare perché i governatori di Hong Kong avvieranno un programma anche di crescita economica importante iniziando le manufatture quindi espanderando le industrie della città in particolare tutto l'ambito tessile che quello che lancia sostanzialmente Hong Kong che ha una manodopera molto buon mercato e comunque fa sempre parte del commonwealth britannico quindi essendo una colonia quindi chiaramente ha una grande potenziale come mercato per questo c'è proprio un vero e proprio un miracolo economico cioè il tra il 1961 e il 1997 il pil cresce di 87 volte è una cosa impressionante e Hong Kong è basa su successo economico anche su un modello di non intervento da parte del governo tasse bassissime libertà di mercato libertà di impresa quasi totali e al tempo stesso però ovviamente la parte importante delle entrate del governo di Hong Kong derivano dall'affittare il terreno perché Hong Kong e tutti i terreni appartengono allo stato appartengono amministrazione e vengono affittate per periodi di tempo più o meno lunghi anche 99 anni appunto ai privati o altre istituzioni per cui è un modello anche abbastanza molto cioè abbastanza molto peculiare ovviamente perché è proprio una situazione molto specifica e naturalmente continua ad affluire comunque la popolazione cresce perché chiaramente arrivano profughi anche dal grande valso in avanti dalla rivoluzione culturale provenienti appunto dal continente il che non significa però che a Hong Kong non rimanga una forte presenza filo comunista è tant'è vero che nel 67 proprio in concomitanza con la rivoluzione culturale ci sono agitazioni moti che vanno avanti da maggio a dicembre addirittura uno scontro la frontiera con i militari cinesi che sparano sulla polizia di Hong Kong ci saranno un totale circa 51 morti poi anche da parte cinese verrà l'ordine di abbassare le tensioni del resto da 71 in poi il campo a favore del Kuomintang perderà mano a mano importanza fino a svanire dopo appunto che alle Nazioni Unite il seggio della Cina sarà assunto invece dalla Repubblica Popolare ma questo rende già l'idea della complessità della situazione già all'epoca e questo modello comincia a cambiare ecco qua va citato ovviamente il governatore Murray McClellan che farà negli anni 70 una serie di riforme molto importanti particolare cominciando a fare delle riforme di welfare sanità educazione edilizia un giro di vite contro le triadi e contro la corruzione che faranno sì che comunque gli abitanti di Hong Kong pur in un contesto ultraliberista godano comunque dell'assistenza sociale garantita comunque anche di qualità ed è in questo periodo che anche la composizione dell'economia di Hong Kong cambia dalla manifattura si passa mano a mano i servizi quindi che perché ormai a metà degli anni 70 comincia ad avvenire un cambiamento molto importante cioè da una parte ovviamente l'opera Hong Kong comincia a essere costosa perché la città comincia ad arricchirsi e dall'altra ovviamente la Cina si apre al commercio e agli investimenti esterni e qui ovviamente gli imprenditori di Hong Kong anche per la vicinanza linguistica e culturale saranno in prima linea nel favorire negli anni 80 lo sviluppo economico della Cina investendo ampiamente nelle zone economiche speciali quindi questo chiaramente fa sì che negli anni 80 ormai Hong Kong sia una piccola potenza economica una delle tigre asiatiche e al tempo stesso abbia avviato un rapporto molto stretto con la Cina continentale e questo porta in questo periodo a discutere quelle che dovrebbero essere le relazioni politiche tra Hong Kong e la Cina per circa una trentina d'anni il governo comunista cinese accetta senza problemi lo status quo ci tiene più che alto a sottolineare che Hong Kong è comunque territorio cinese sotto amministrazione britannica. Deng Xiaoping è colui che avvia i negoziati con Londra per ottenere la restituzione di questo territorio perché poi nel 1997 sarebbe scaduto il affitto dei nuovi territori quindi lui era già anticipato nel 79 parlando con il governatore McClellan di uno status speciale. I negoziati condotti tra l'altro da parte britannica la Margaret Thatcher la Lady di Ferro che diciamo nonostante il suo forte anticomunismo è stata più che disposta ad avere buone relazioni con i comunisti antisovietici come era la Cina in quel momento. Infatti tra l'ottobre 82 e novembre 83 ci sono questi negoziati i cinesi insistono sulla negare indipendenza a Hong Kong e a rivendicarne la sovranità e si arriva però l'idea comunque di mantenere altri 50 anni di stato speciale quindi sorge l'idea di una Cina due sistemi un solo stato ma due sistemi economici sociali politici differenti per cui su queste premesse 19 dicembre 1984 viene firmata la dichiarazione congiunta sino britannica che stabilisce poi le politiche di base e nomina una commissione congiunta per gestire la transizione di potere e stabilisce che gli affitti di terreni non potranno essere datati come scadenza oltre 2047. Però già questo accordo comincia a causare una forte migrazione a Hong Kong e tra l'altro questo periodo sta avvenendo anche da parte britannica una lenta democratizzazione della città stato. In particolare già nel 1982 avviene la prima elezione dei consigli locali. Nell'85 le prime elezioni indirette del consiglio legislativo e le prime elezioni dirette nel 1991. finché si arriverà nel 1994 alla riforma elettorale del governatore Chris Patton che estenderà il suffragio a un corpo elettorale più ampio cosa che tra l'altro desterà anche il fastidio di Pechino perché questa legge elettorale era vista con una violazione invece di quanto stabilito in particolare con la legge fondamentale di Hong Kong varata dal governo cinese, supervisione britannica, il 4 aprile del 1990. Perché sostanzialmente come funzionano le elezioni a Hong Kong? Ora è un tema molto complesso perché poi è stato cambiato numerose volte. Basti dire che esiste un comitato elettorale che consiste di 400 persone, poi è ampliato al 1800 e attualmente al 1200, che vengono nominati tra i membri di diversi settori, associazioni di categoria, sindacati, i religiosi, gli avvocati, insomma eccetera eccetera. E questi a loro volta eleggono una serie di membri del consiglio legislativo. Altri membri del consiglio legislativo sono eletti, sono i seggi funzionali che sono appunto anche loro dei partenenti alle associazioni di categoria. E infine ci sono una serie di seggi geografici eletti per distretto che effettivamente questi sono a suffragio abbastanza esteso. Però appunto è un sistema elettorale molto complesso che privilegia in realtà piuttosto che il voto popolare, di cui Pechino dubitava molto, ma anche Londra di fatto, per cui Hong Kong non era mai una vera democrazia prima del 97, ecco. Di fatto favorisce invece un suffragio limitato all'elite locale che invece era più inclina a collaborare prima con Londra e poi con Pechino, naturalmente. Per cui 1 luglio 97 avviene la consegna ufficiale di Hong Kong alla Cina, sostanzialmente rimane autonoma sotto ogni punto di vista tranne per la difesa e la politica estera, con tutto che in ogni caso Hong Kong continua a partecipare indipendentemente a diverse organizzazioni internazionali. Il confine resta controllato, quindi c'è anche un passaporto diverso, anche i voli, vengono considerati voli internazionali, quelli tra la Cina continentale e Hong Kong, mantengono tutta una serie di standard britannici, la data, la guida sinistra, anche il nome delle strade, le statue. L'educazione rimane mista in lingua inglese e cantonese, anche se verrà mano a mano promosso anche l'uso del mandarino. E infine ovviamente vengono sostituiti i simboli più evidenti, l'inno, la bandiera, le onorificenze, altri simboli, quindi inizialmente i cambiamenti che sono comunque molto limitati in apparenza. Nonostante il modello una Cina, due sistemi, a Hong Kong la situazione diventerà sempre più complicata negli anni successivi. Questo perché c'è stata una polarizzazione politica molto forte tra il campo pro-Pechino, cioè nazionalisti, comunisti, conservatori, cioè quell'alta borghesia locale che vorrebbe continuare a fare i propri affari senza fastidi politici, e dall'altra un ampio campo pro-democrazia che vorrebbe espandere le libertà democratiche a Hong Kong o addirittura in alcuni casi separarsi dalla Cina. Il sentimento indipendentista in realtà riguarda circa un sesto della popolazione e altrettanti, grosso modo, vorrebbero invece un governo diretto cinese. La maggioranza degli abitanti di Hong Kong comunque vuole mantenere lo status quo. Ma tra i giovani si sale al 40% a favore dell'indipendenza, secondo un sondaggio del 2016. Anche perché c'è un certo risentimento presso gli autotoni non soltanto verso le politiche governative che mirano a normalizzare Hong Kong dal punto di vista politico, ma anche verso gli immigrati provenienti dalla terraferma, sono ormai il 30%, meno male, della popolazione, e sono accusati ovviamente di venire a portarvi al lavoro, a partorire Hong Kong per avere i figli con il passaporto e avere diritto quindi al welfare, insomma vengono chiamati locuste e addirittura c'è un certo razzismo verso i cinesi della terraferma. Poi comunque Hong Kong è una delle città più ricche del mondo, ma anche una delle città più care del mondo, quindi il problema abitativo è molto molto sentito, le diseguaglianze economiche e sociali sono fortissime e c'è anche un problema di disoccupazione giovanile, quindi questo spiega il malessere, il dissenso che si diffonde tra i giovani. E infatti, non a caso, se noi andiamo alla prima manifestazione importante, le proteste del settembre-dicembre 2014, cioè la rivoluzione degli ombrelli o Occupy Hong Kong, come è passata la storia, vedono in prima linea gli studenti, si distingue il giovanissimo Joshua Wong, con il gruppo Scolarism, che diventa uno delle volti più in vista del movimento pro-democrazia a Hong Kong. E questi si oppongono al governatore Leung Chunying, cioè il capo dell'esecutivo, il quale aveva proposto una riforma elettorale che avrebbe rafforzato chiaramente lo schieramento filocinese, mentre invece gli studenti chiedevano il suffragio universale e l'eliminazione dei seggi funzionali. Dopo parte alcuni moti, il capodanno cinese del 2016, in cui la popolazione si era schierata contro la polizia a favore dei venditori ambulanti, riesplodono le proteste su scala molto più vasta, nel senso che nel 2014 erano durati due mesi, c'erano state qualche centinaia di feriti. Il 2019, il 15 marzo, di fronte al progetto di legge sull'estradizione che era stato presentato dal capo dell'esecutivo Carrie Lam, che nasce dal fatto che un cittadino di Hong Kong aveva assassinato la propria fidanzata Taiwan e poi si era rifugiato a Hong Kong. Quindi questa legge nasce con il pretesto, l'idea appunto di consentire l'estradizione di questo colpevole a Taiwan. Però ovviamente poteva essere estesa anche la Cina continentale, questo chiaramente avrebbe consentito al governo di Pechino di chiedere l'estradizione di cittadini di Hong Kong che avessero commesso dei reati e quindi sottoporli a un sistema giudiziario molto più rigido e molto più autoritario. E questo fa sì che naturalmente le proteste dureranno fino a tutto il 2020 inoltrato, venendo meno di fatto soltanto poi per le misure anti-Covid. Ci saranno circa 2.600 feriti e anche alcuni morti, in realtà due morti per incidenti durante le manifestazioni e 13 suicidi. Quindi alla fine sono proteste molto meno cruente comunque di quanto succede in altri paesi anche in occidente, penso al Cile o alla Francia. Ma rappresenta in realtà una stagione di mobilitazione molto forte per Hong Kong. Addirittura comunque all'interno del campo dei manifestanti, oltre al ritiro della legge estradizione, si continua a chiedere un maggiore controllo sulla polizia, il suffragio universale resta ovviamente una delle richieste primarie. E però c'è una parte moderata e una parte invece molto più radicale che avvia tutta una serie anche di metodi di protesta più estremi. Per esempio c'è il Yellow Economic Circle, cioè l'idea di fare acquisti soltanto nelle attività commerciali che sostengono apertamente il movimento di protesta, boicottando invece quelli a favore del governo di Pechino. Non solo, c'è anche il cosiddetto Lam Chao, che in cantonese sarebbe sostanzialmente tanto peggio tanto meglio, cioè di rendere la situazione talmente incandescente da far sì che per il governo cinese non sia più conveniente mantenere Hong Kong. E ora la legge sull'estradizione viene ritirata già nell'ottobre del 2019, ma da parte cinese si reagisce varando il 31 del 2020 una legge nazionale sulla sicurezza che reprime molte delle libertà che erano state presenti fino ad allora, tant'è vero che gli Stati Uniti replicheranno poi con l'Hong Kong Autonomy Act sanzionando la Cina e anche il Gran Bretagna protesterà accusando la Cina di aver violato l'accordo congiunto che era stato firmato. E in più l'11 marzo del 2021 la parte cinese verrà avviata anche una riforma elettorale che rafforzerà ulteriormente il controllo della fazione pro-Pecchino a livello di consiglio esecutivo e di consiglio legislativo. Per cui di fatto i partiti democratici vengono in parte sciolti, in parte boicotteranno nuove elezioni e molti opteranno invece per l'emigrazione. Quindi al momento attuale il movimento pro-democrazia di Hong Kong ha subito un colpo piuttosto duro. In conclusione possiamo vedere quindi che Hong Kong ha tutti gli effetti è parte integrante della Cina, dal punto di vista etnico, dal punto di vista storico, e però tuttavia mantiene delle specificità culturali, politiche, economiche tali che effettivamente è imprescindibile la prospettiva di una Cina a due sistemi. Anche perché dal punto di vista economico continua a giocare un ruolo fondamentale. Anche se a livello di peso effettivo sul pil complessivo del paese è stata molto molto ridimensionata, non di meno continua ad essere una vera e propria porta d'accesso, con capitali che arrivano sia dalla Cina continentale ma anche dall'estero e quindi rappresenta un po' un porto franco attraverso cui i flussi di denaro passano in entrambe le direzioni. E però dal punto di vista politico anche qua Hong Kong per chi guarda dall'esterno, diciamo per le democrazie liberali, la normalizzazione di Hong Kong da parte cinese rappresenta sicuramente il simbolo che la Cina comunque è un regime a tutti gli effetti autoritario se non totalitario e che intende espandersi, quindi questo in particolare Taiwan si vede già come una nuova Hong Kong in caso di riunione alla Cina. E d'altra parte i cinesi dal loro punto di vista hanno uno sguardo altrettanto sensibile su questa città perché Hong Kong per come è stata strappata alla Cina rappresenta il simbolo più importante del secolo delle umiliazioni, quindi del dominio coloniale straniero, per cui il sostegno degli stati occidentali ai movimenti democratici di Hong Kong non fanno altro che rafforzare questa visione della parte cinese, questo sospetto e questa voglia quindi di schiacciare i movimenti separatisti che vorrebbero riportare la Cina negli occhi del governo di Pechino al periodo dell'occupazione e dell'umiliazione da parte straniera. In chiusura, come al solito, vi consiglio un po' di letture su questo argomento, a cominciare dai romanzi della saga asiatica di James Clavel ambientati a Hong Kong, cioè Taipan ambientato nel 1841, e poi la nobil casa che riprende le vicende dei discendenti, dei protagonisti del primo negli anni 60. Per quanto invece riguarda la Hong Kong contemporanea, proprio quest'anno è uscito un libro di Ilaria Maria Sala, L'eclissi di Hong Kong e topografia di una città in tumulto, che consiste in una serie di storie di diversi abitanti di questa città. Andando invece più nello specifico sulle proteste del 2019-2020, c'è l'Instant Book di Lisa Yucca, 30 giorni a Hong Kong e frammenti di una protesta, che racconta proprio in presa diretta questi eventi. E poi il libro Noi siamo la rivoluzione di Joshua Wong, che rappresenta un po' il manifesto di queste proteste e che rappresenta un po' il punto di vista dei manifestanti anticinesi. Invece, restando su un ambito un po' più ampio, che cura anche l'aspetto storico e sociale, quindi più saggistico, consiglio Hong Kong e racconto in una città sospesa di Marco Lupis, che è di orientamento liberale democratico, e invece più vicino alle posizioni cinesi abbiamo Hong Kong e il porto profumato della Repubblica Popolare Cinese tra storia, economia e ingerenze straniere di Marco Costa, Andrea Turri e Stefano Vernole. Quindi questo, se volete approfondire, in ogni caso vi invito a mettere mi piace, condividere questo video e guardare anche gli altri video di questo canale. Alla prossima!